Nato a Palermo, classe 1963, 54 anni, sposato e padre di sei figli. Una laurea in giurisprudenza, giornalista professionista dal 1993, dal 2013 direttore della TGR della RAI. Vincenzo Morgante, il nuovo direttore di TV2000 in blu radio. Il consiglio di amministrazione di Rete Blu lo ha scelto come successore di Paolo Ruffini, nominato direttore nel 2014 e chiamato direttamente da Papa Francesco come prefetto del Dicastero Vaticano per la comunicazione. Una scelta che pone per la prima volta un laico a capo di un importante ufficio della Santa Sede. Ruffini lascia in mano a Morgante, la guida delle due emittenti della CEI. In queste immagini, risalenti al 2015, Ruffini lascia la parola proprio a Vincenzo Morgante, seduto al suo fianco. Vincenzo, che hai la parola? Il mio professore di liceo di italiano diceva che le domande non sono mai difficili, sono difficili le risposte. E oggi Morgante ha deciso di rispondere alla chiamata della Chiesa italiana che gli ha affidato un importante incarico. Un legame con la Chiesa e la fede che è stato sempre strettissimo. Su all'unica intervista della RAI a Don Pino Puglisi, poco prima di essere ucciso dalla mafia nel 1993. Il sacerdote, divenuto famoso come spesso, purtroppo accade solo dopo la morte. Padre Puglisi, in quel palazzo un fiocco azzurro annuncia la nascita di un bambino. Possiamo pensare a un futuro migliore per questo piccolo? Abbiamo proprio oggi fatto alcuni battesimi e per noi sono le nostre speranze. È stato corrispondente del Sole 24 Ore e a venire assunto in RAI nel 1997, dove ha svolto diversi incarichi fino alla direzione della TGR RAI, la più grande testata giornalistica radiotelevisiva italiana con oltre 750 giornalisti, dove ha poi vinto il premio Viaggio Agnes. Morgante assumerà ufficialmente l'incarico il prossimo 1 ottobre, giorno del suo 55esimo compleanno.